L'aeroporto di Bergamoreo al Serio, intitolato Al Caravaggio, è uno dei tre scali costituenti il sistema aeroportuale milanese insieme a Malpensa e Linate. Nel 2019 è stato terzo nella classifica degli aeroporti italiani per passeggeri trasportati con oltre 13 milioni, e le rotte attualmente più trafficate sono i collegamenti con Bari Palese e Londra Stansted con 28 voli settimanali ciascuno. L'aeroporto dispone di una sola pista, la 10-28, di 2874 metri di lunghezza. La notorietà dello scalo bergamasco è dovuta principalmente alle compagnie low cost e soprattutto Ryanair, la quale lo impiega come principale base operativa italiana e fra le tre più grandi della compagnia insieme a Londra Stansted e Dublino. Infatti pensate che solo Ryanair possiede ben 104 destinazioni raggiungibili da Orio al Serio. Suggeritemi altri argomenti relativi all'aviazione di cui parlare e soprattutto seguitemi sul mio canale YouTube dove pubblico video più approfonditi.